Terminata l'asfaltatura tanto attesa di Corso Italia, che pur facendo parte della circovaluazione di Ovada e ora di competenza statale come tratto della 456 del Turchino, ora tutta la città si sta rifacendo il look, da Via Gransci fino a Piazza Castello, fino alle periferie, dove è previsto rifacimento di strada San Lorenzo. Il piano asfalti del comune, che ha investito in merito una cifra attorno ai 100.000 euro, procede e se non ci saranno intoppi terminerà entro la fine di luglio. Lavori messi in preventivo da tempo e non più rinviabili, che vengono realizzati dovendo però tenere in considerazione un aumento nervoso dei costi delle materie prime. E non mancano i disagi per gli ovadesi, che devono fare i conti con una città sotto sopra. Chiediamo pazienza, poi i risultati si vedranno, aveva raccomandato il sindaco Paolo Lantero sulla sua pagina Facebook. I lavori stanno procedendo infatti spediti e in alcuni tratti manca solo la segnaletta corizzontale, fattore che crea perplessità, soprattutto nei pressi degli attraversamenti pedonali. Se non ci sono le strisce, chi ha la precedenza? Chiedevano ieri alcuni cittadini sui social. Intanto anche la provincia ha lavoro per stabilire se ci sia una necessità di intervento sui due ponti di ingresso alla città, provenendo da Novi Ligure e da Alessandria. Sono in corso indagini strutturali partite dal ponte sull'Ostura e il degrado della struttura era stato segnalato da tempo e probabilmente almeno le barriere dovranno essere rifatte. Ma a Dovada si parla anche del potenziamento dei parcheggi. Dopo il rifacimento di piazza Assunta, interventi potrebbero verificarsi anche in piazza San Domenico e in piazza Martigli della Benedicta. 72 mila euro in arrivo da Roma potrebbero intanto servire a lanciare un concorso di idee fra i cittadini. Le proposte, che non mancheranno, aiuteranno il comune a decidere come muoversi fra le prime ipotesi ventilate e la realizzazione di un parcheggio multipiano.